Notte di Pasqua di dolore a Telve in Valsugana. Un ragazzo di soli 24 anni è morto in un terribile incidente stradale. Per tutti i dettagli sentiamo Gabriele Buselli. Il paese di Telve in Valsugana celebra una Pasqua di dolore. Stamani all'ombra delle nubi, sparse in un cielo che non voleva diventare azzurro, si è svegliato con un peso sul cuore. Uno dei ragazzi della piccola comunità in Valsugana se n'è andato nella notte. Un viaggio senza ritorno, quello di Mattia Stroppa, di soli 24 anni. Una vita che è finita alle 2.50 in una scarpata. Una piccola targa già da Stamani testimoniava il luogo dove un tragico volo, durato solo qualche secondo, se l'è portato via. Solo poche ore prima Mattia stava scendendo dalla strada del Mangen, quando per cause, ancora da accertare, ha perso il controllo della sua Citroën Saxo. La vettura si è imbizzarrita, le ruote hanno perso il contatto con l'asfalto. 50 metri più sotto ha trovato la morte. Uno schianto, un rumore di lamiere che ha allarmato alcuni avventori che si trovavano in un bar poco distante. Sono bastati pochi minuti per rendersi conto della tragedia. Uno sguardo giù nella scarpata, per capire che da quel volo solo un miracolo avrebbe salvato la vita a chi si trovava nella macchina. Ma poco dopo i carabinieri e i soccorsi hanno constatato che il miracolo non si era avverato. Giaceva ormai senza vita il corpo di Mattia Stroppa. Un dolore che ha colpito la famiglia, ma anche la comunità di Telve, che oggi si è stretta attorno a chi fa difficoltà a sopportare un dolore così grande. Una Pasqua tragica, una Pasqua triste, come triste può essere solo la morte di un ragazzo di poco più di vent'anni. Un tragico destino accompagnato dalle lacrime degli amici che oggi, come in un mesto pellegrinaggio, hanno voluto per l'ultima volta salutare Mattia nel luogo dove ha perso la sua giovane vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti.